pace fratelli e sorelle dio vi benedica oggi è 19 maggio leggiamo insieme nel capitolo 20 del vangelo di giovanni leggeremo in modo particolare i primi dieci versi compare la figura di maria maddalena che era una delle donne che seguivano gesù e che leggiamo nella parola di dio era stata liberata da parte del signore dal momento in cui fu liberata rimase sempre fedele a gesù e nel vangelo di giovanni ci viene presentato come una donna che era animata da un profondo sentimento di riconoscenza e questo perché molto l'era stato perdonato e credo che se il signore ci ha salvato e se il signore ci ha perdonati e lo ha fatto sicuramente se pentiti siamo andati a lui abbiamo chiesto o il suo perdono anche noi dovremmo avere un senso di riconoscimento verso il signore perché i nostri peccati non potevano essere cancellati diversamente nessuna nostra buona opera avrebbe permesso di pagare il prezzo per la cancellazione dei nostri peccati e nessuno avrebbe potuto compiere qualcosa in nostro favore in modo tale da essere giustificati dinanzi a dio è stato il sangue di gesù sangue innocente sparso sulla croce che ci ha dato vita eterna e noi vogliamo con tutto il nostro cuore ripeto essere grati a dio delle volte delle persone hanno bisogno di vedere i miracoli per glorificare il nome del signore e forse anche tu ti chiedi in cuor tuo ma perché dovrei ringraziare dio forse sei malata o malato stai pregando il signore il signore ancora non ti ha guarito forse stai intercedendo per qualcuno e non vedi le risposte ma se il signore ti ha salvato da salvata tu avrai ogni giorno mille centomila motivi per dare gloria al nome del signore il signore gesù era stato messo sulla croce era stato anche trafitto per mezzo di una lancia allo scopo di essere certi che fosse morto era stato poi deposto da parte di giuseppe d'animatea nel sepolcro e ora il primo giorno della settimana mentre ancora era buio o perlomeno il sole cominciava a sorgere maria maddalena è la prima ad andare al sepolcro e sicuramente fa questo perché è spinta da un amore sincero o verso gesù verso colui che l'aveva liberata da quella situazione spirituale terribile e maria maddalena proprio per questo sarà anche la prima che darà l'annuncio della risurrezione e il suo attaccamento al maestro era tale che nonostante fosse una donna nonostante ancora il sole non fosse spuntata ella da sola andò al sepolcro e possa signora aiutarci a seguire questo esempio aiutarci ad avere questi stessi sentimenti non solo di riconoscenza ma anche questo spirito di iniziativa che caratterizza maria anche se dobbiamo essere soli e anche se ci dovessimo ritrovare da soli nel servire il signore noi non vogliamo tirarci indietro né scoraggiarci ma vogliamo andare avanti perché abbiamo fatto un'esperienza reale profonda perché abbiamo realizzato chi è il signore e proprio per questo come lui è stato pronto da solo ad andare sulla croce e a pagare il prezzo per la nostra salvezza noi siamo pronti se è necessario anche ad andare da soli nel servizio cristiano gli altri possono tirarsi indietro gli altri possono mettere la mano all'aratro e girarsi indietro noi vogliamo continuare ad andare avanti vogliamo protenderci verso la meta così come l'apostolo paolo diceva sì cari dobbiamo identificarci con maria maddalena essere grati al signore per quello che ha fatto e che fa per noi dobbiamo essere spinti dalla stessa devozione sincera che maria maddalena aveva e dobbiamo essere pronti a fare qualsiasi cosa per la sua gloria maria maddalena in quel primo giorno della settimana era interessata soltanto al signore e così fu oppure per i fedeli della chiesa delle origini che scelsero di consacrare e santificare proprio il primo giorno della settimana al signore noi siamo chiamati oggi più che mai a dedicare al signore tutti i nostri giorni tutti i nostri attimi disponibili e come segno tangibile della nostra riconoscenza evitando di riservare al signore soltanto ritagli della nostra giornata e quando viene il giorno del signore e non abbiamo degli impegni lavorativi perché magari siamo di turno in quanto lavoriamo in un ospedale o in qualche altra struttura che ci richiede che richiede scusate la nostra presenza ricordiamoci come insegna la scrittura di santificare quel giorno di consacrarlo a dio di dedicare più tempo alla lettura alla meditazione della parola di dio alla preghiera alla comunione fraterna non saltiamo il culto domenicale per scuse banali e sciocche ma anzi impegniamoci ad essere presenti evitando che ci possano essere ostacoli che si frappongono tra noi e il servire cristo anche nella chiesa insieme ai fratelli perché anche quello è un servire il signore maria maddalena in quel giorno andò al sepolcro quando nessuno si era ancora mosso e la sua iniziativa precedette quella di tutti quanti gli altri e io credo che il signore ancora oggi ha bisogno di credenti fedeli che siano pronti a prendere l'iniziativa che si dispongono per primi a servirlo e che possono essere un traino per gli altri per coloro che magari sono un po più pigri o che forse non hanno lo stesso entusiasmo e lo stesso zelo e vorrei rivolgermi a quanti invece l'iniziativa non la prendono e sono soliti guardare a coloro che si impegnano pensando vabbè sta facendo lui sta facendo lei non c'è bisogno che faccia anch'io no cari come gli altri andarono al sepolcro seguendo l'esempio di maria maddalena anche noi dobbiamo impegnarci nell'opera di dio seguendo l'esempio di coloro che impegnati già sono in modo da essere partecipi e collaboratori dell'opera di dio sì perché la messa è grande e gli operai sono pochi e servono tante maria maddalena e possa il signore far sì che ognuno di noi possa imitare questa donna di dio che la grazia del signore e la sua pace siano con noi ancora oggi dio ci benedica insieme